Allora, riprendo il video, l'ho lasciato prima perché ho trovato la Nintendo e si trovava praticamente alle mie spalle. Ci sono passato davanti e non me ne sono accorto. Adesso vi faccio vedere l'ufficio di togge della Nintendo. Eccola qua. Questo è il nuovo ufficio, non so se tutto il palazzo, non so se è tutto il palazzo o solo qualche piano, questo è il palazzo dove ci sono gli uffici della Nintendo. Qui a Tokyo, infatti, vedete, Nintendo. Si trova da Saku Sabashi. Io l'ho trovato per caso perché sapevo che avevano aperto. Oggi è domenica è chiusa, non c'è nulla. Ma non riuscivo a trovare un indirizzo. Poi sapevo che era tra Chiabara, Ueno, da quelle parti. Mi sembra che sul sito della Nintendo, quello giapponese, c'era poi l'indirizzo degli uffici di Tokyo. E se non ricordo male mi dava Saku Sabashi ma non mi trovava su Google Map il punto esatto. Allora ho girato un po' così a muzzo, finché per guardando su Google Map, finché non sono riuscito a trovare per caso dove si trovava. Allora mi sono segnato le coordinate e ce l'ho fatta, sono riuscito ad arrivare fino qua. Quindi, vi ripeto, non so dirvi se è tutto il palazzo o solo qualche piano. Secondo me è tutto il palazzo. vedete Nintendo, è chiuso, non c'è nulla. Ancora c'è questo giardinetto curato. Va bene. e dal... Niente, vi ho fatto vedere... Si trova, guardate, l'olio d'olivie, così se lo volete venire a vedere. Nell'incrocio tra Kiosu Dabashi Dori e l'altro incrocio è... lo metto da dietro, così si vede. Kuraaa. L'altro incrocio è questo. Kuraaa. Kura ma è Bashi Dori. Ok. Ce l'ho fatta. Sono riuscito, vedete? Faitos Shihiti Asakki Dabashi. L'ho trovato, quindi adesso vi saluto. Se ne ritorno da Sakiabara e... con nuovi video qui dal Giappone. Quindi, dagli uffici, dai nuovi uffici della Nintendo che hanno aperto sì e no un paio di anni fa, non di più è tutto. E ci vediamo con nuovi video qui dal Giappone. Ciao ciao! Ciao!